Allora, questa partita l'abbiamo migliorata e racconto, fortunatamente, questa è una delle squadre troppo forti, è stata, diciamo, abbastanza facile, il primo quarto è un passo importante, tante scuole di quelle situazioni, poi sono fermo in mezzo a me, non ho fatto il fatto di miso di quella, e diciamo che questa partita non si è vendita una carta di Ruggeri, volevo disperminare questo punto, è molto importante, abbiamo avuto il 100% dei free liberi, anche se sono stati pochi, abbiamo vinto, diciamo, quello è peggio, è il massimo giocatore nel basso per dirlo, vincere la partita direi, diciamo che abbiamo giocato bene, anche il basso ha fatto una buona partita, bene, abbiamo fatto due punti in 5 minuti, a due punti in 5 minuti all'inizio, perché non lo so perché, non mancano situazioni d'attacco, mancano un po' di voglia di fare, mancava sotto l'aducazione della squadra, non lo so, sono cose che valuteremo in sé di allenamento, ringrazio tutti, ringrazio a te Filippo, ringrazio i miei fan, ringrazio Filippo, la mia ragazza sempre nel cuore, ciao Svegliamo! Grazie! 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 Grazie!